A fine aprile abbiamo approvato il rendiconto 2020 e dal bilancio, oltre alle solite voci che ci sono tutti gli anni, abbiamo registrato 480 mila euro di contributi che sono arrivati dal governo Conte che il comune di Montelabate ha speso per l'emergenza Covid. Sono stati distribuiti buoni spesa alle famiglie in difficoltà per oltre 90 mila euro e abbiamo acquistato prodotti per la sanificazione e anche arredamenti che si sono resi necessari per adeguare le strutture sia alle scuole ma anche al comune per affrontare l'emergenza Covid. Inoltre sono stati acquistati anche tutti le mascherine e gli altri prodotti di sanificazione e anche delle dotazioni informatiche che sono state date in uso, in comodato d'uso, agli alunni della scuola media e anche delle scuole elementari che ne avevano bisogno. Questo, quello che è stato fatto, quello che invece sarà fatto anche perché sono arrivate risorse dal Ministero dell'Istruzione ma non solo? Sì, infatti a settembre abbiamo incassato un contributo di 1 milione 89 mila euro che hanno permesso di avere un avanzo di circa 4 milioni e di questi ne utilizzeremo oltre un milione appunto esclusivamente di risorse proprie senza del comune, senza dover attingere a mutui per fare diverse opere. Avevamo già elaborato un progetto per completare il secondo stralcio dei lavori al campo sportivo di Osteria Nuova che inizialmente era previsto con mutuo, invece finanzieremo interamente appunto con queste risorse che sono entrate a fine 2020. Inoltre stiamo partecipando ad un bando di gara del Ministero dello Sport per il bando Sport e Periferie, il quale doveva chiudersi a inizio anno ma poi è stato prorogato per il Covid e speriamo di avere altre risorse che finanzino questa opera. Faremo i marciapiedi sulla provinciale per circa 300 mila euro e nello stesso tempo verrà Barchi Multiservizi, provvederà a rifare la condotta dell'acquedotto che passa sotto i marciapiedi, quindi verrà sistemato un po' tutto il percorso da Via Lunga fino alla rotatoria che c'è all'ingresso di Osteria Nuova. Invece nelle altre frazioni attrezzeremo delle aree all'aperto per fare attività fisica sia a Montelabate con delle attrezzature per fare esercizi fisici nell'area ex sgambatoio in Via Branca. Ad Absella faremo un campetto adiacente al campo da basket parrucchiale faremo un campetto da pallavolo. Oltre a questo un'altra cosa importante che poi dopo eseguiremo prossimamente sarà l'incarico ad un architetto per progettare il parco Orburg a Montelabate perché vorremmo riqualificarlo e rifare un po' tutta l'area che necessita sia di parcheggi ma anche di un miglioramento perché così com'è viene usufruito lo spazio solo nel periodo estivo e non è il massimo per quando viene utilizzato.